In questo Consiglio regionale ci sono stati tre eventi principali, il primo l'approvazione anche con il nostro supporto della legge che sostiene le piccole stazioni sciistiche, abbiamo voluto però argomentare il nostro voto favorevole e integrarlo con degli ordini del giorno, non tutti sono stati accettati, ma è passato quello che prevede la possibilità o meglio il dovere per il governo di venire in commissione e relazionare a tutto il Consiglio regionale e a tutti i gruppi in Consiglio regionale di quelle che sono le valutazioni che si stanno facendo sul riordino, sulla riforma, sulla riorganizzazione del modello delle stazioni di impianti a fune valdostani, ci sono dei provvedimenti che sono già stati presi, ci sono degli studi, ad oggi non sappiamo nulla, noi abbiamo voluto però esporre un principio, non è creando una sola società che si risolvono i problemi e soprattutto si vinceranno le sfide future di una concorrenza mondiale sempre più forte. Il secondo evento è stato quello relativo al disagio che stanno vivendo i beneficiari dell'edilizia residenziale pubblica, c'è stata una protesta alla quale la Lega Valedost ha voluto dare ascolto e comprendere quali sono i problemi, abbiamo chiesto la pubblicazione del bando affitti, non so da quanto tempo la stiamo chiedendo, ancora oggi ci viene detto di no e ancora oggi queste persone devono aspettare un aiuto, persone già in difficoltà, le cui difficoltà soprattutto stanno aumentando considerati i problemi che ci sono. Il terzo evento è stato una risoluzione che non ha trovato purtroppo la maggioranza dei voti, c'è stato anche un soccorso rosso da parte dell'opposizione dell'estrema sinistra che ha supportato il Presidente Bertin, avevamo chiesto al Presidente Bertin di avere rispetto del voto espresso da 5 consigli regionali italiani a sostegno dei referendum abrogativi del 12 giugno, gli abbiamo chiesto di essere terzo, di essere imparziale, lui si è trincerato dietro sono opinioni personali, la battuta che mi viene da fare è questa, quando un Ministro degli Interni festeggiava il papete era un Ministro degli Interni, perché un Presidente del Consiglio che scrive sul suo profilo Facebook degli veri e propri insulti e dice che c'è un partito che strumentalizza delle libere assemblee elette pubblicamente e democraticamente, invece lo fa a titolo personale?